Filo, cosa ne pensi nella tua prima partita? Molto molto bella Quindi adesso ti piace il calcio? No! Salve! La family è diretta verso la Curva Mare per vedere Juve Atalanta in quel di Cesena Da Boriminese andiamo a tifare per la nostra Juve È bello che dici Ecco lo spizzo di Dino Manufi Sembra pieno La family che entra e andiamo su in tribuna Andiamo sopra le scale qua? Ed ecco Juve Atalanta in campo Sono anni che non veniamo a vedere la Juve Da prima del Covid Filo è la prima volta che la vede Ci vanno un passo da più Siamo in mezzo alla Curva Oggi se la Juve Chiesa e Vlaovic ci allenano con i tiri in porta Adesso dicono le formazioni Ascolta bene Le squadre entrano in campo e come potete vedere da una panoramica dello stadio Eravamo più di 18.000 persone Veramente veramente tante per una amichevole estiva Anzi di fine estate Mattia Perì prende possesso della porta Partita iniziata e subito si scaldano gli animi Calcio d'angolo per l'Atalanta Ecco Luca non ce l'aveva fatta cazzo l'anno scorso In cima è zappata Lui è lui Danilo Tiro da fuori di Timutì Weha Uno dei migliori in campo Calcio d'angolo per l'Atalanta Palla respinta Timo ti vuoi a parte Musso, musso, musso Ma che intervento che ha fatto il portiere Punizione per la Juve Al limite dell'aria Un po' spostato sulla destra Chiesa sulla palla Speriamo che sia inserata Ennesima sgruppata di Juve sulla fascia E' poco servito Ma quando è servito Va, va Ne ha il ragazzo Finito il primo tempo Si scaldano i giocatori che non hanno giocato Milik, Kostic, Ling Junior, Solé, eccetera Gatti Ma del primo tempo, cosa devo dire? La solita Juve Che non tira mai in porta Se non fosse per Timo, TvA Che è il lungo che corre E' cambiato dall'altra parte Ma è il solito gioco di Allegri Speriamo bene per il campionato Filo Eh, va bene Cosa ne pensi della tua prima partita? Molto molto bella Quindi adesso ti piace il calcio? No Grande Filo È iniziato il secondo tempo Subito cambio Milik per Vlaovic E vediamo se ci regalerà emozioni E niente, non si tira mai in porta Punizione al limite dell'aria per la Taranta Cambio in porta Esce Mattia Perin Ed entra il mitico Pinsoglio Finalmente i calciatori ascoltano i consigli del pubblico Dei tifosi e danno palla a Chiesa Kostic perde palla Ma ritorno imperioso sull'uomo Applausi per Chiesa che lascia il campo e viene sostituito Devo dire che ha fatto una bella prestazione ma dovrebbe essere più servito Come il discorso che facevo prima Ultime azioni prima del triplice fischio Credo che i giovani abbiano dato una bella dimostrazione Finita la partita con uno 0-0 che accontenta più o meno tutti Vi lascio all'invasione di campo E mi raccomando iscrivetevi al canale che Non è piccato Ciao ragazzi